Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'infuso per sgonfiare e depurare. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pompelmo, scorza e succo, finocchio a pezzetti, timo, acqua e semi di finocchio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E' il zucco di pompelmo. Ed azionare il bimbi per dieci minuti. 100 gradi. Velocità 1. Aggiungere il finocchio, la scorza del pompelmo, i semi di finocchio e il timo. Amalgamare con la spatola. E lasciare in infusione per 15 minuti. Trascorso il tempo, l'infuso è pronto. Filtrare con un colino a maglie strette e servire. L'infuso per sgonfiare e depurare. Si consiglia l'assunzione di tutto l'infuso nell'arco delle 24 ore. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie.